Barbara D'Urso, l'amore è per sempre, guardate quanto è bella Barbara D'Urso che ieri ha compiuto 60 anni dite voi, dite voi, esprimete voi il vostro giudizio cari amici, guardate che bella donna 60 anni cari amici, 60 anni, beh questo articolo vedete, l'articolo è il Corriere della Sera di ieri ieri, domenica 7 maggio, io non ho fatto in tempo a farci un video perché vedete che c'è scritto io a 60 anni che impressione, ho amato ogni uomo pensando fosse per sempre, pensando fosse per sempre lo vedete come è fatto il patriarcato cari amici, io ormai sono più di 10 anni che vi parlo del patriarcato perché il patriarcato nella sua essenza è una truffa, è una truffa, è una truffa capito perché in patriarcato non c'erano le passioni, in patriarcato non c'erano le passioni, c'erano i sentimenti, in patriarcato ci sono le passioni, la differenza fra sentimenti e passioni è che i sentimenti sono dolci e le passioni invece sono sanguinarie, sanguinose, sanguinarie le passioni e poi le passioni tutto promettono e nulla mantengono perché ne ha avuti tanti di uomini e ogni volta, vedete, ogni volta lei ha sempre pensato che fosse per sempre, secondo la formula religiosa di quando ci si va a sposare in ecclesia, muscat morte, muscat morte, beh, allora io come stanno le cose in patriarcato? Ve l'ho già spiegato per filo e per segno in circa 10.000 video, ma soprattutto ve l'ho spiegato per filo e per segno in questa mia celebre opera che ora nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo nella grande piattaforma mondiale della Mela, Apple, 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 from patriarchy to patriarchy, è un'opera che la possono leggere in tutto il mondo in lingua inglese, ormai la lingua inglese è una lingua internazionale, beh, cari amici, allora, sì, sì, che stanti bus rebus, vedete, ogni volta si ricomincia da capo, pensando fosse per sempre, guardate quanto è bella, è meglio di una girl minorenne, guardate voi che spettacolo, è meglio di una girl minorenne, perché tra l'altro c'ha appunto la sua bella esperienza, capito? Sì, sì, io andrei più volentieri con lei, andrei più volentieri con lei, che con una girl, beh, con una girl minorenne non ci andrebbe, perché finirebbe la regina Coeri con una minorenne, però con una girl maggiorenne, di 18 anni compiuti, 19, 20 anni, se dovessi scegliere preferirei Barbara D'Urso, preferirei Barbara D'Urso che ha 60, guardate che spettacolo, questa è una sirena, guardate che spettacolo, e lo dice pensando fosse per sempre, e invece no, e io le cose ve le ho spiegate per filo e per segno, per sempre a questo mondo c'è solo l'universo infinito ed eterno, solo quello è per sempre, e le passioni sono sanguinarie, sanguinose, sanguinarie, e poi la caratteristica fondamentale delle passioni è che tutto promettono e nulla mantengono, va bene cari amici? Beh dai, ci sono i miei video cari amici, ci sono le mie opere per aiutarvi, eh? Bene bene, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni! Grazie a tutti!